La bella bionda Elena Ossola ha vissuto l'esperienza di Miss Italia qualche edizione fa e per lei è stato il trampolino di lancio per la tv. Un bel po' di anni fa però ho partecipato, nell'anno di Francesca Chillemi nel 2003, sono classificata fra le prime sette, ho vinto il titolo nazionale di Miss Bioethic Debora ed è stata un'esperienza meravigliosa che mi ha portato a Roma perché poi da lì l'eredità ai migliori anni e proprio in quell'occasione ho conosciuto Carlo Conti col quale ho lavorato ben sei anni. Cosa pensa di Giusy Buscemi, regginetta di bellezza 2012? Finalmente una bionda, dopo un po' di anni di more, è siciliana anche lei, una bellissima ragazza, mi sembra anche semplice, anche con la testa sulle spalle. Eppure qualcuno ha sostenuto che in gara ci fossero ragazze più meritevoli... Grazie. 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 Grazie.